Sono diminuiti di oltre il 5% nel 2012 gli incidenti stradali mortali, ma c'è ancora molta strada da fare dal momento che le vittime sono state oltre 2.000 e i feriti più di 58.000. I dati sono stati diffusi dalla polizia stradale. Per invertire questo drammatico fenomeno, principale causa di morte per i giovani sia in Italia che in Europa, la stradale ha promosso una campagna di sicurezza giunta alla tredicesima edizione insieme ai ministeri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione e alla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza in collaborazione con il MOIGE. Anche quest'anno in 80 città italiane è stato proiettato il film Young Europe realizzato nell'ambito del progetto Icaro per sensibilizzare e informare gli automobilisti di domani. A spoltore alla proiezione del film hanno assistito gli studenti degli istituti superiori pescaresi, il comandante della polizia stradale Abruzzo Mario Nigro. A differenza dei film di denuncia dove ci si cautela ogni riferimento a fatti o persone realmente vissute è puramente casuale. Che riferimento invece qui è voluto? Certamente non il nome e il cognome ma gli episodi riportati nel film sono quelli che in tutta Europa ogni fine settimana accadono. Il messaggio positivo è che attraverso Icaro abbiamo portato in tutti questi anni ed in particolare quest'anno con il messaggio dovuto ai patentati o ai patentandi che il veicolo deve essere trattato con rispetto perché a bordo del veicolo ci sono delle persone che a bordo di tutti gli altri veicoli ci sono delle persone e che la vita è una sola e vale la pena di essere vissuta bene.